Buongiorno e benvenuti a questa rassegna stampa di oggi giovedì 8 giugno 2017, questa è Fano TV sul canale 17 del Digitale Terrestre. Cominciamo dal Santo di Oggi e poi vediamo le previsioni del Tempo. Allora il Santo di Oggi è la Chiesa Cattolica ricorda la Beata Maria del Divin Cuore di Gesù, il suo risorto alle 5.25, tramonterà alle 20.49. Vediamo il tempo per oggi giovedì 8, avremo cielo sereno poco nuvoloso, avremo temperature in diminuzione, venti nord orientali moderate ottesi, il mare sarà mosso. Per la giornata di domani, venerdì 9, cielo sereno poco nuvoloso con temperature in diminuzione nei valori minimi, in aumento quelle massime, i venti dai quadranti settentrionali, il mare sarà mosso, attenzione quindi per chi va in spiaggia. Poi sabato, sabato ancora cielo sereno poco nuvoloso, temperature in aumento, venti a regime di brezza, il mare sarà poco mosso. Condizioni stabili e soleggiate anche con temperature in aumento per la giornata, almeno fino alla metà della prossima settimana. Allora ci sono diverse notizie sui quotidiani questa mattina, il Carlino e il Corriere, le edizioni di Peso Urbino, notizie che avremmo dovuto darvi anche noi nel telegiornale di ieri, purtroppo non siamo stati in grado di darvele, quindi vi chiedo scusa. Partiamo dalla pagina di Fano, il rogo al pesce azzurro, intanto la notizia è che è stato assolto l'imprenditore fanese Giovanni Piccoli, per il PM era il mandante, lui dice che è la fine di un incubo, condannati invece gli altri cinque imputati. Giovanni Piccoli, sono serenissimo, aveva detto poco prima che il giudice si ritirasse in Camera di Consiglio, mio padre me lo aveva detto di stare tranquillo perché la verità sarebbe venuta a galla e così è stato. Una storia, quella dell'incendio doloso del pesce azzurro che comincia nel giugno del 2010. Gli altri però sono stati condannati, i titolari del Porto Novo per esempio, quello locale che sta a poche decine di metri dal pesce azzurro, ai titolari e all'intermediario, sette anni e mezzo di carcere, sei invece e quattro anni di carcere ai due fratelli pugliesi, esecutori materiali del rogo. Qui il Carlino pubblica una fotografia di quella notte nel 2010 quando distrusse completamente il noto self-service sul porto di Fano. Anche il Corriere Adriatico parla di questa condanna e assoluzione di Giovanni Piccoli. Allora pesce azzurro per il rogo quasi 30 anni di carcere, ha fatto la somma totale, il crimine dei ristoratori vicini, 5 condanne, assolto Giovanni Piccoli, non è lui il mandante, l'atto compiuto per mezzo della criminalità pugliese con esecutori e intermediario. L'avvocato di Piccoli, Giovanni Chiarini del Foro di Urbino, dice, ora merita, Giovanni Piccoli, ora merita di essere riabilitato, non c'entra nulla con questa vicenda, è stato tirato dentro da un test nordafricano che è in carcere e ce l'aveva con il mio assistito. Aveva detto che era il finanziatore dell'operazione, tutto smentito, piccoli e totalmente estraneo e siamo molto soddisfatti. Questa è la pagina di Fano del Corriere Adriatico. Poi sia il Corriere che il resto del Calino hanno una storia che adesso vi leggiamo, poi naturalmente tutti i dettagli li troverete sui giornali che potete acquistare in edicola. C'è una storia incredibile che è questa, gli infila una siringa nella coscia, paga o muori per la radioattività. A Fano, un imprenditore ieri mattina si è presentato al pronto soccorso del Santa Croce dicendo di essere stato appunto da questa siringa, erano circa le 12-17, è un 49enne imprenditore pesarese, Luca De Carlo, è andato al triage del pronto soccorso raccontando appunto questa storia da brividi. È stato chiuso per mezz'ora e l'uomo ricoverato in isolamento, è stato iniettato un liquido verde, i carabinieri però trovano solo tracce di vitamina B. Il cliente irlandese che aveva pagato in anticipo non era contento dei ritardi di consegna, si parla di un'auto d'epoca cabriolet. Insomma questa è la storia che poi riprende anche il Corriere Adriatico. Poi sulla morte invece, la morte alla Profilglas, spunta un'altra verità. L'incidente non sarebbe di peso dall'imprudenza della vittima, sono stati interrogati due operai, domani intanto l'autopsia, l'azienda incontra ai sindacati. La commissione del Senato presieduta da Camilla Fabri in contatto con l'Asur. Dunque due rumeni, scrivono Elisabetta Rossi e Anna Marchetti, due rumeni sentiti in procura per la morte di Rodolfo Cangiotti, questo 49enne tecnico specializzato, vittima all'unico scorso di un infortunio sul lavoro. Il PM Valeria Cigliola li ha interrogati l'altro ieri e questi due operai stavano lavorando appunto all'interno della Profilglas ed erano lì al momento della tragedia. Andiamo sulla pagina di Urbino del resto del Carlino, si voti la revoca da presidente di Elisabetta Foschi, la minoranza farà una mossa clamorosa, l'opposizione in consiglio comunale ha chiesto la revoca dell'incarico al presidente Elisabetta Foschi, partiti, liste e movimenti che sono contro il sindaco Gambini vogliono discutere la richiesta nel consiglio del prossimo 12 di giugno. Un'auto urta uno scooter in galleria e trauma cranico per un 58enne. A Fossombrone si temeva il peggio, è arrivata anche l'eliambulanza, vedete è atterrata sulla superstrada, c'è stato questo incidente sulla E78 Fano Urbino, lo scooterista Gabriele Virgili di Fossombrone, 58 anni, che era in sella ad uno scuterone, ha fatto un volo di qualche metro, andando a finire con la faccia in mezzo all'acqua della canaletta di scolo a lato della carreggiata. La prima pagina invece del resto del Carlino c'è la fotonotizia che riguarda la notte, la mezzanotte bianca dei bambini in piazza del Popolo a Pesaro, niente paura, questo è il titolone, attentati e attacchi collettivi di panico, il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, tira dritto, dice bimbi e famiglie, venite a Pesaro per la mezzanotte bianca, sarete al sicuro, ma l'opposizione lo attacca sugli eventi a rischio del recente passato. La prima pagina invece del Corriere Adriatico, eccola qua, anche qui, la mezzanotte e notte rosa, grandi eventi in sicurezza, vietato portare bottiglie e bicchieri di vetro, si parte domani con la piazza, tutta dedicata e riservata ai bambini. Poi le sfide shock tra ragazzi che impazzano sui social, qui sembra un mondo di matti, sfide shock tra ragazzi vince chi fa più danni, fotografano la bravata e poi la postano sui social network, già pentiti alcuni giovanissimi autori. Di che cosa si tratta? Di sfide, questi giovani sono completamente annoiati, muoiono dalla noia e quindi devono trovare ogni sera qualcosa da fare che li riaccenda un po'. Vince chi fa più danni, si pensa ad un atto vandalico, lo si mette all'opera e poi si fotografano i risultati, quindi si pubblica il tutto sui social, chat, piattaforme e si attendono poi le reazioni e i consensi. La visibilità mediatica di massa e la sfida tra gruppi di ragazzini è ciò che sta dietro agli atti vandalici accaduti in via Lorenzetti. Persi quasi 10-100 mila euro, altrettanti invece salvati, ambito sociale, siamo sulla pagina di Fano, Borini sulla rendicontazione carente dei progetti e poi da Urbino l'opposizione contro la Foschi, dimissioni o voto di revoca, minoranza compatta contro la Presidente del Consiglio che è stata giudicata inadatta dall'opposizione per ricoprire quel ruolo. A Cagli invece è già emergenza estiva, notti senza medici, ospedalieri, resta la Guardia Medica ma anche nei fine settimana impossibili altri consulti. Dalla Valle del Cesano invece rischio di desertificazione, così il lungomare muore, i consiglieri del PD attaccano il sindaco di Mondolfo per l'eliminazione di 140 posti auto. Tra sanità e viabilità il confronto dei progetti, programmi sibili per Sebastianelli e Cion, il primo propone il decoro e il secondo la clinica, sono i due candidati a diventare sindaco di terre roveresche. Senigallia, da Senigallia sosta vietata per 13 chilometri, con il giro di vite scatta la rivolta, ordinanza del Comune su tutto il tratto della Statale, i commercianti furiosi dicono così affossano le nostre attività commerciali. L'ultima pagina è per lo sport, vi ricordo che a Fano si stanno disputando le finali nazionali di pallavolo under 18, per lo scudetto c'è anche la Virtus Fano, i baby di casa alla seconda fase, da oggi entra in gara anche la Lube, c'è una partita oggi pomeriggio alle 5 al palazzetto dello sport di Lucrezia e queste due squadre marchigiane gareggeranno in questa seconda fase insieme alle altre big. Insomma, la Virtus sta andando bene, è già prima in classifica nel suo girone, sta andando bene, adesso disputerà la seconda fase, quella che poi decreterà il campione d'Italia under 18 di pallavolo. Noi ci fermiamo qui, c'è il telegiornale stasera alle 20.30, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona giornata. Grazie a tutti.